Perché mi vergognavi? Mi vergognerei di me stesso. Mi vergognerei di me stesso. Saranno state le undici e mezza passate. Cosa stai facendo, Linda? Ho trovato queste cose in casa. Io non voglio di questa roba, Montague. Mi fa paura. Tu passi tutta la tua giornata davanti alla tua famiglia del televisore. Questi sono la mia famiglia. Quando ci siamo conosciuti? E dove? Cosa? Quando è stata la prima volta? Non lo so. Fammi pensare. No, non lo ricordo proprio. Ah, piuttosto triste. Non credi? Io sì. Lo trovo molto triste. Dietro ognuno di questi libri c'è un uomo. È questo che mi interessa. Lasciami in pace e torno a letto. Io non ho sonno. Hai le tue pillole, no?